Forza ragazzi eccoci qua buongiorno buongiorno buon sabato Mr Viola vi dà il benvenuto al video dedicato al pre partita di Fiorentina Lazio che andrà in scena questa sera alle 20.45 sfida delicatissima per quanto riguarda in casa Viola perché servono punti salvezza sfida delicata anche per la Lazio perché è in corsa per la Champions League ieri ha parlato Iachini ma bando alle ciance sigla e andiamo ad analizzare come la Fiorentina si sta preparando proprio per la sfida di questa sera tra Fiorentina e Lazio sigla Eccoci rientrati ragazzi allora un pre partita vero e proprio perché proprio oggi è il giorno della partita prima di andare a parlare di Fiorentina e Lazio e delle parole di Iachini ieri in conferenza stampa come sempre ragazzi vi invito se non avete già fatto a iscrivervi al mio canale youtube Mr Viola attivate la campanella lasciate tantissimi like per sostenere il canale come sempre condividetelo con tutti i vostri amici e tifosi Viola seguitemi anche sugli altri miei social iscrivetevi al gruppo di Facebook Seguitemi su Instagram vi lascio il link in descrizione dei miei shop online e il link in descrizione degli amici di okcalcio.com Sta scorrendo o meglio è qui in sovrapprensione il nuovo format che partirà da domani quindi domani mattina verrà caricherò il nuovo video il Viola in Giro per il Mondo quindi mi raccomando ragazzi appuntamento da non perdere andremo a scovare insieme le squadre in Giro per il Mondo che utilizzano una cosa che noi abbiamo in comune cioè il colore Viola quindi il nuovissimo format sempre grazie alla collaborazione degli amici di okcalcio.com Trovate il link in descrizione per visitare il loro sito Banda alle ciance parliamo di Fiorentina Lazio Allora due squadre che arrivano da due momenti completamente diversi due squadre che lottano per obiettivi completamente diversi ma due squadre che hanno due obiettivi la Fiorentina alla salvezza la Lazio alla Champions League Quindi insomma diciamo che le motivazioni devono essere in ugual misura se vogliamo nella testa dei calciatori Iachini ieri ha parlato in conferenza stampa e alcune domande sono state fatte proprio in base a questa salvezza cioè Beppe è rischioso o comunque c'è un po' la pressione del fatto che è importante il risultato è importante fare i punti? Beppe ha risposto è normalissimo che sia così cioè nel senso ragazzi stiamo lottando per salvarsi non siamo salvi quindi è normale che ci sia la pressione all'interno della testa dei calciatori di dover vincere di non dover perdere Però ovviamente il nostro obiettivo è quello di fare grandi prestazioni perché le grandi prestazioni ti portano a risultati positivi e i risultati positivi ti portano ad avere punti Quindi se l'obiettivo è fare punti bisogna partire dalla grande prestazione poi è anche vero che si può anche vincere sporco però comunque ci vuole impegno Ha parlato anche del modulo tattico nel senso forse sarà il caso di cambiare qualcosina o continuiamo con questo 3-5-2 Ha fatto un esempio banalissimo anche quando è arrivato Prandelli e subito ha provato a cambiare abbiamo visto i risultati non ci sono stati anche Prandelli stesso è tornato sul 3-5-2 Noi è un po' tutto l'anno che ribattiamo il fatto che forse questa è una squadra più adatta al 3-4-3 o al 4-3-3 Alla fine della fiera ragazzi probabilmente anche noi che non viviamo la squadra giorno dopo giorno e dentro gli allenamenti forse questa è una squadra nata per il 3-5-2 e ormai si è abituata al 3-5-2 Quindi continuiamo con il modulo 3-5-2 Ha parlato anche naturalmente di Castrovilli perché insomma è un po' il grande escluso in queste giornate di campionato Castrovilli Ha detto assolutamente no giocheremo tre partite in una settimana ho bisogno di Castrovilli Castrovilli è un grande calciatore ha avuto un problemino fisico e quindi l'ha portata a non essere al 100% ma è naturalmente indispensabile per questa rosa Quindi non c'è nessun caso Castrovilli Sul fatto di sfidare poi le altre squadre e anche sul fatto della parte difensiva ha detto Noi abbiamo affrontato squadre da quando sono tornato io che sono anni e anni che giocano con gli stessi calciatori, con gli stessi allenatori e che hanno delle trame di gioco ben oliate Effettivamente aver interrotto un mio progetto di gioco per poi riprenderlo a 10 giorni alla fine non è mai facile ed è sempre difficile A livello offensivo siamo migliorati, devo dire sì la Fiorentina fa molti più gol ora con Beppe Iachini rispetto alla gestione Prandelli Su questo ragazzi ce ne accorgiamo tutti quanti Beppe ha anche detto che la squadra ha sempre fatto buone prestazioni Cioè secondo lui la Fiorentina è mancata soltanto nella partita col Sassuolo negli ultimi 20 minuti Per il resto la Fiorentina è sempre stata in partita Beh a Verona abbiamo sofferto vincendo, con l'Atalanta eravamo riusciti a pareggiare pur soffrendo però fino all'ultimo ci abbiamo creduto Con il Sassuolo dopo i due rigori ricevuti contro siamo andati completamente nel pallone Quale squadra non avrebbe avuto ma forse questa reazione Con la Juventus abbiamo retto botta Con il Bologna effettivamente Iachini ha detto c'è stato qualche errore difensivo Però non mi sento neanche di colpevolizzare magari ha detto anche su Pezzella Che ha un rendimento a ribasso il capitano Viola che sicuramente lascerà la Fiorentina a fine stagione Ha detto sì forse qualche errorino l'ha fatto ma non mi sento di dargli tutte le colpe a Pezzella Palazzo per esempio si è mosso da grande campione e ha fatto grandi gol Io dico che secondo me con un pochino più di accortezza si bloccava Vignato, si bloccava Palazzo Forse portava a casa i tre punti ma questa è un'altra storia andiamo avanti Ha parlato anche di Milenkovic perché sapete perfettamente che sui social E anche io stesso ho fatto un post su Instagram una storia su Instagram In cui mi dico cioè ragazzi la Fiorentina si fa gli otto gol in casa Nel senso Milenkovic parla già da ex calciatore Viola Ora Beppe ha detto non ha detto che vuole andare via Non ha detto che andrà via ha detto soltanto ha raccontato il suo percorso in Viola Ma ragazzi però ha parlato sono state io a Firenze ringrazierò sempre Questo si dice a fine ciclo cioè quando un calciatore sta andando via Dico io ringrazio la città ringrazio la Fiorentina Quindi secondo me Beppe sta cercando di smorzare i temi Però ha detto anche una cosa interessante Ha detto su Milenkovic non posso dire niente perché il ragazzo si impegna Io vedo l'impegno del ragazzo in allenamento e in partita E io non ho problemi a vedere se un calciatore non si impegna a metterlo fuori rosa Cioè ecco Beppe ha dato un segnale cioè se non ci fosse l'impegno di questi calciatori Allora verrebbero messi fuori rosa Allora io mi domando e dico ma allora questo Milenkovic ma vale veramente 40 milioni Se è questa la prestazione del ragazzo che si impegna Ma oppure Pezzella vale ancora 15 milioni 20 milioni come i famosi che ti voleva dare il Milan Nella scorsa estate perché se è questo l'impegno ed è questo il rendimento parliamone Detto questo poi gli si è chiesto tra Blauic e Immobile due bomber che in questo momento si stanno un po' contendendo I vertici della classifica cannonieri Perché effettivamente Blauic ragazzi 20 gol Chi li avrebbe mai immaginati un ragazzo così giovane 20 gol È vero che ne ha segnati 7 sul calcio di rigore Però comunque li ha fatti Bisogna avere anche la voglia di andare sul calcio di rigore sul dischetto e segnarli Beh allora Blauic ha tutto da dimostrare l'ha detto Beppe Blauic ha un futuro rosio davanti Mi auguro che faccia bene Mi auguro che lo faccia bene nella Fiorentina Immobile è un attaccante già affermato che non deve dimostrare più niente Perché si conosce il valore del calciatore Ora vedete che in copertina io inizialmente volevo scegliere Iachini, Pezzella, Milenkovic contro Immobile, Correa e Inzaghi Sarebbe stata una copertina della serie Azzo se la mettiamo sotto questo punto di vista Bona Ugo Invece ha voluto utilizzare Blauic e Ribéry contro Correa e Immobile Perché? Allora Correa e Immobile Negli ultime partite c'è la coppia gol più in forma del campionato ragazzi Cioè sono andate a segno sempre, sempre, sempre Soprattutto Correa si è svegliato tutto insieme Dall'altra parte noi abbiamo un Ribéry che Dopo la prestazione con la Juventus Una delle sue migliori fatte in questa stagione E comunque una buona prestazione con il Bologna Anche se è uscito in anzitempo E ha recuperato la botta Quindi Ribéry stasera sarà titolarissimo in campo Bisogna dire che Blauic lavora molto meglio quando c'è Ribéry Quindi diciamo ci attacchiamo un po' a questa nostra coppia d'attacco là davanti Devo dire che c'è anche un retroscena Perché la Lazio avrebbe anche sondato il terreno Ribéry Nell'eventualità a fine stagione Ribéry Lasci la Fiorentina Quindi se queste voci sono vere Quindi l'interessamento della Lazio su Frank Ribéry Che verrebbe utilizzato naturalmente come pupillo Come sostituto di lusso Ma siamo sicuri se Lasciar veramente partire così Frank Senza nemmeno poter provare a parlarci con questo ragazzo O con questo uomo O con questo campione O come leggo molto spesso ancora scrivere L'ex buyer Perché se veramente ci sono queste squadre Forse è stata un po' la Fiorentina in generale a non girare bene E forse questo ragazzo Questo campione Questo ex buyer Avrebbe veramente fatto la punta di diamante Di questa Fiorentina Se ci fosse stato dietro qualcosa Però questi sono altri discorsi Adesso bisogna concentrarsi sulla partita di questa sera Mi aspetto una Fiorentina Che affronterà una Lazio Che verrà a Firenze Pur sapendo di avere una partita in meno Quindi quella con Dettorino Che tra l'altro è una partita che ci interesserebbe anche a noi In fase di punti di classifica Però una Lazio che vorrà vincere Una Lazio che verrà a Firenze Iachini purtroppo ha uno score molto negativo Cioè ha avuto 10 incontri Di cui 9 sconfitte e un solo pareggio Quando allenava il Siena Quindi statistiche Numeri È vero che c'è una Fiorentina che ha sempre reagito Quando è andata sotto ha reagito Quando andava sopra e subiva gol Ha reagito Quindi è una Fiorentina che reagisce Però è una Fiorentina che subisce tanto Bisognerà essere attenti È tornato Cocori Non scederà in campo naturalmente Gli diamo la casecchina Si siede in panchina Igor squalificato Peccato perché Igor Secondo me Iachini ci punta tanto Quindi dovrebbe tornare quarta Anche se ho letto in settimana Che ci sta che ci sia un escluso di lusso In difesa Uno tra Pezzella e Milenko Ci potrebbe sedersi in panchina Più a favore di Capitan Pezzella Che a favore di quarta Però le parole di Ieri di Iachini Ci fanno capire che Pezzella e Milenko Saranno comunque La coppia centrale Che difenderà i pali Della Fiorentina Dovrebbe esserci Caceres Dall'altra parte ancora venuti Che sta veramente migliorando Il suo rendimento score A centrocampo dovrebbe esserci sempre Pulgar Che funge un po' da baluardo difensivo E da coniugazione tra difesa e centrocampo E poi Amrabat Buona avventura sicuramente Da capire Castrovilli Se sarà della partita o meno E poi là davanti Vlaovic e Ribéry Quindi questa deve essere un po' La formazione viola Che affronterà la Lazio Una Lazio ripeto Che cerca punti per la Champions Però ragioniamo un attimino E vi porto qualcosa Se la Fiorentina Io firmerei per un X questa sera Perché Se poi il Cagliari domani Vince col Benevento Cosa abbastanza Diciamo Probabile Ci sarebbe poi Cagliari e Fiorentina Paradossalmente Il Benevento poi andrà a sfidare l'Atalanta Anch'essa Corsa per la Champions League Quindi perché farsi male Se la Fiorentina riesce a ottenere Un punticino oggi E un punticino col Cagliari Si va a più 6 Dalle ultime due giornate di campionato Dal Benevento E tu sei matematicamente salva Quindi La Fiorentina In queste due giornate di campionato Tra Lazio e Cagliari Può veramente Scrivere il suo destino La sua permanenza in Serie A Io mi auguro che questo L'abbiano capito i calciatori E che l'abbiano capito Sicuramente anche i dirigenti Ma soprattutto Che l'abbia capito l'allenatore Che ieri ha fatto il compleanno E gli faccio tantissimi auguri E mi auguro che oggi Si regali un risultato positivo Iachini sta arrivando Da dei risultati utili consecutivi Dopo Verona È virata Vittoria col Verona Pareggio con la Juventus Pareggio col Bologna Quindi comunque Tre risultati utili consecutivi E ci mancherebbe altro E ci mancherebbe altro E quindi diciamo Vediamola sotto quest'ottica Sta portando dei punti Importanti e pesanti Tutti i punti che si portano Ora a casa Sono pesanti In ottica salvezza Abbiamo salutato il Crotone Abbiamo salutato il Parma È vero che abbiamo anche L'ultima partita con il Crotone in casa Ma sarebbe comodo salvarsi prima Sperando anche Nei risultati delle altre squadre Che onestamente Alcuni risultati inaspettati Ci hanno un po' scosso E quindi siamo ancora Invischiati qua Perché ripeto Se tante squadre Non avessero fatto L'esploit come per esempio Il Cagliari A cui io faccio tanti complimenti E tanti complimenti anche a Semplici Che ha preso nove punti In dodici disponibili Tanto di cappello Non si può fare altrimenti Detto questo Ragazzi Naturalmente ci sarà il video Post partita Una volta finita Il match E naturalmente Non uscirà il video Del giorno dopo Domenica Ma uscirà lunedì Perché uscirà lunedì Uno perché domani Voglio lasciare spazio A questo nuovo Format Degli unboxing Il Viola In giro per il mondo Ma perché voglio Completare la giornata Di campionato E poi Analizziamo lunedì Con i risultati Anche tra Benevento E Cagliari E tutte le altre squadre Che ci interessano Per la lotta Per non retrocedere Ragazzi Forza Viola Questa sera Fiorentina Lazio Mi raccomando Dai Viola E poi ci vediamo Nel post partita Ragazzi Vi aspetto stasera Forza Viola Ciao